Era necessario e urgente, secondo il Papa, in quell'alba del terzo millennio, riconoscere le ragioni e i valori unificanti del nostro stare insieme in Europa, cogliendo in primo luogo il significato delle comuni radici cristiane. Da esse si sarebbe dovuto partire per scrivere una carta d'identità comune dei cittadini europei, che nel frattempo avevano scelto di dotarsi di una sola moneta. Così non è stato, e su questo credo sia doveroso fare autocritica da parte di tutti, anche di un popolo tradizionalmente europeista come il nostro. E oggi sperimentiamo quanto sia farraginoso il disegno di tenere insieme un continente unito dalla moneta, ma non sempre dalle coscienze. Mai come oggi, di fronte a riemergere di rigurgiti nazionalisti, localisti, ai tentativi populisti di mettere in discussione la stessa scelta dell'euro, abbiamo compreso che l'economia da sola è condizione necessaria, ma non sufficiente, per formare un idem sentire europeo.